Non c'è pace per John Jones. Dopo l'arresto ratificato nello scorso weekend in quel di Las Vegas sono emersi diversi dettagli al limite del raccapricciante in merito al fermo accumulato dall'ex campione dei massimi leggeri UFC e fresco Hall of Famer della promotion. Come riferito da diversi report, tra cui il più importante fornito dal giornalista di SPN Mark Raimondi, la polizia metropolitana di Las Vegas ha risposto ad una chiamata legata ad una lite domestica. Arrivati sul luogo, la compagna di John Jones sarebbe stata trovata sanguinante all'altezza del naso e della bocca e alle precise domande delle forze dell'ordine ha negato che John se l'avesse messo le mani addosso, limitandosi a sbraitare con vemenza contro di lei ed arrivando al massimo a tirarle forte i capelli. Tuttavia la polizia ha per l'appunto notato il sangue all'altezza della bocca e ha persino fatto caso al fatto che la donna apparisse visibilmente spaventata anche solo nel raccontare la vicenda. John era fuggito in albergo, dapprima ha fatto resistenza all'arresto e appena caricato sulla macchina ha cominciato letteralmente a prendere a testate il cofano dell'auto della polizia. Comunque sia, l'ormai ex numero uno Pound4Pound2FC è già fuori su cauzione e ha rilasciato su Twitter dei messaggi di scuse abbastanza emblematici. Ho avuto troppi problemi a causa del consumo di alcol, il mio cervello molto semplicemente non riesce a reggere tutto questo. Mollerò l'alcol per sempre trasformando questo incubo nella miglior cosa che mi sia mai capitata nella vita. Adesso è il momento di lavorare più duramente che mai. Ciò che per il diavolo è male, per Dio invece è bene. Torno in sella. Un messaggio giudicato da molti pessimo perché sembrano un po' le lacrime di coccodrillo di una persona con problemi di dipendenze che per l'ennesima volta si giustifica e si scusa. Le reazioni dei colleghi invece si alternano a chi prova pena come Anderson Silva che si è detto triste per quanto accaduto al suo tra virgolette fratellino e gente come Israel Adesaniac invece ci ha andato più pesante dicendo che John Jones non potrà essere salvato perché non è la prima volta che tutto ciò si verifica. Intanto però è saltato anche fuori l'aido dell'arresto di Jones che ha contribuito ancora di più a creare contorni assai macabri attorno alla vicenda. Il soggetto è in realtà un atleta professionista di MMA, Jonathan Jones. La donna si rifiuta di tornare dentro casa. Stiamo cercando di aiutarla a prendere le sue cose ma lei non vuole darcele. La donna ha dichiarato che era nella sua camera d'albergo quando Jones è tornato dopo aver bevuto con i suoi amici ha riferito che fosse aggressivo ma non violento con lei. Non si sentiva al sicuro, stava per andare via con le sue figlie e Jones l'ha afferrata per i capelli tenendola dentro la stanza. Poi li ha portati in camera d'albergo dove l'alterco ha avuto luogo. C'era del sangue sulle lenzuola e scarpe sparse qua e là. C'erano dei fazzoletti sul pavimento e mentre i detective stavano per lasciare il luogo la donna ha chiesto quanto tempo ho prima che lui esca dal carcere sembrava ancora molto spaventata. Quindi che dire ragazzi, situazione davvero davvero drammatica a quanto pare fatemi sapere la vostra nei commenti. Prima di chiudere ringrazio tutti i nostri sostenitori Patreon che ci permettono di andare avanti e se volete darci una mano anche voi potete farlo con il link che trovate in descrizione e questo mese uscirà il campione lineare atto finale. Un saluto da Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA che parla italiano. CBA, never said, I've been on my ground for seven days Need a raise, swear to god I'll never be the same TBH, t-t-t-t-t-t-TBH, yeah